Dopo gli ultimi successi ai campionati europei, Fabio Scozzoli, campione di nuoto assieme al suo allenatore anche in vista delle prossime Olimpiadi a Londra nel 2012, ha fatto visita a Technogim, azienda leader nel settore delle attrezzature per l'allenamento sportivo, per scegliere nuovi macchinari per le sue preparazioni atletiche. Fabio Scozzoli oggi in visita a Technogim, quali sono state le tue prime impressioni? Non ero mai stato qui e quindi le impressioni sono ottime, diciamo che è veramente un'azienda innovativa, ci sono dei macchinari nuovi che veramente credo che solo loro potevano studiare e che possono veramente darmi una mano e anche cambiare un po' le frontiere dell'allenamento. Nella collaborazione con Technogim hai previsto anche l'utilizzo di alcuni macchinari di questa azienda, oggi lei ha avuto l'opportunità di provarli, cosa ne pensi e se hai già scelto qualcosa? Beh, come ho detto sono molto innovativi, soprattutto sono rimasto molto impressionato da questi macchinari che si chiamano Kinesis, che diciamo aiuta un po' a tutti i movimenti che uno può fare, amplia veramente la gamma di movimenti in funzione dello sforzo che poi io devo fare in acqua e anche Arche è molto innovativa.